Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Statale 1 Aurelia, rallentamenti per lavori tra Ortonovo e Sarzana in entrambe le direzioni, riduzione di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Riotorto in direzione Cecina. Sulla FIPILI fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Montopoli-Valdarno e Ponte del Est in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra Cole-Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena fino al 28 settembre è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla Statale 3 Bis-Tiberina, tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti.